Si è tenuta presso la chiesa Sant'Anna del quartiere di Picciocarano a San Cataldo la prima replica della rappresentazione L'Urtimiuri di Cristo di Bernardino Giuliana, poeta e scrittore sancataldese. L'evento a cura del regista Davide Burcheri ha riscosso un grande successo di pubblico. Presenti il fratello e la moglie di Bernardino Giuliana.